E' davvero ricca la stagione 2017 per le terme di Boario, la decima dal rilancio del 2008. Allora i comuni convenzionati erano 15, oggi complessivamente 47. Musica, natura, shopping, grandi eventi, parco avventura e concorsi, gli ingredienti per gli eventi in calendario dal 1 maggio al 15 ottobre sono numerosi. Sono tantissimi, sono oltre 130-150 i personaggi più o meno famosi che sono passati, dall'apertura con Susanna Messaggio e Mai Buongiorno a adesso, che siamo arrivati nel 2017. Sono stati anni diversi, nel senso che il 2008 si ragionava in una maniera, il 2017 poi anche la crisi economica, eventi, li abbiamo mantenuti sullo stesso livello ma ovviamente con una certa difficoltà. Gli eventi più importanti che verranno riprodotti questa stagione sono i due principali, che sono Misteri e Misterme, dove coinvolgiamo praticamente ragazzi e ragazze di tutta la Lombardia, dove vengono premiati, vengono visti anche da agenti, tanti di loro stanno già anche lavorando presso grosse agenzie di moda ma anche televisive. E ovviamente anche il concorso Canoro, dove si canta in due con un'orchestra dal vivo, quest'anno sarà Vladi Tosetto, che seguirà i ragazzi dall'inizio alla fine, che è un grande compositore, ha composto canzoni per Joe Cocker, Laura Pausini, Giorgia, cioè tutti i cantanti importantissimi. Per cui abbiamo messo vicino ai cantanti un personaggio veramente importante, che li tranquillizzi e che li porti ad affrontare il palco in maniera molto più serena, in un concorso non facilissimo, perché cantare in due non è molto facile. Poi abbiamo dedicato tutti i bambini, veramente a tutti, di tutte le valli, la Val Seriana, la Val Camonica, la Val Cavallina, il 3 di settembre, che è il Parco dei Balocchi, dove premieremo tutti i bambini e li aspettiamo tutti, dove questo parco veramente si trasformerà in un grande parco giochi, dove ci saranno dai giocolieri alle bancarelle, ai dolci, è praticamente l'ultima domenica prima di andare a scuola. E infine termineremo la stagione estiva il 15 di ottobre, cioè una stagione veramente molto importante che spero ci seguirete sia televisivamente ma anche a venirci a trovare.